Ragazzi forza ragazzi, forza ragazzi. Subito la palla per le grottaglie. La palla nello spazio per Oba, attenzione Bobo. Sacco vincente in area solo, Oba, il tiro, Egole, 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 Egole! Egole, 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 Egole. Oba, 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 1-0. Rivediamo l'azione, la grande palla, Vieri controlla bene, assist. per Stankovic che va dentro il pallone è in posizione forse di offside ma tutto è posto vediamo la palla dentro scavalca Buffon, Inter in vantaggio sesto minuto, gol di Oba 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 quinto gol stagionale in campionato per Oba 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 attenzione Vieri che è detta alla profondità la palla è buona per Bobo attenzione Bobo c'è da andare da dentro salta le grottaglie guarda nel fondo il cross c'è la deviazione che favorisce il recupero di Gigi Buffon pericolo, attenzione, aiuto Trezeghe arriva al limite Gamarra, palla buona, Camoronesi può andare al cross la palla dentro, autogol incredibile autogol di Kili Gonzalez attenzione a fuorigioco, non c'è aiuto, Trezeghe va dentro, è solo pericolo, Camoronesi entra in area della destra può andare al tiro, deviazione salva Matrix guarda adesso solo là guarda adesso solo là Kili, può andare al cross punta e vai, punta e vai il cross, palla dentro allontana Dejan, controlla Santonuovo, terrato e... che è? non è niente aspetta dice guarda lì le dice è calcio di rigore è calcio di rigore è calcio di rigore è calcio di rigore Olso Stoke pisacreta calma ragazzi Vieri contro Buffon attenzione parte la rincorsa Bobo, tiro è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Tridoline! Tridoline! 2-1 Trezeghe in questo momento la seconda frazione di gioco Forza ragazzi Forza ragazzi, forza ragazzi lancia in avanti Palla dentro per Farinos converge cambia tutto palla buona per Bobo attenzione Bobo controlla con il destro cerca di andare in dribbling su Zambrotta, si guadagna il primo corner della ripresa quarto generale vediamo il movimento a centro aria palla sul primo palo, Ivara Miro Matrix, gol! Staccavi! E' gol! 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 Dejan! Staccavi! Eccolo qua, sorridente Ballmaster sul primo palo Ivara Miro la mette sul palo opposto arriva Dejan, piattone sinistro sotto misura, gran gol mi era sembrato Matrix arrivare come un Terraria, invece guardate Dejan arriva di piatto, la mette sul primo palo, Buffon può solo inchinarsi, Inter 3, Juventus 1 non fermiamoci ora non fermiamoci ora palla per Oba, attaccato da due uomini parte con un dribbling Montero, se ne è libera, attenzione Bobo Bobo ancora per Oba, va dentro Buffon sui piedi palla buona ancora per Saverio, può andare a cross alla destra lo va a chiudere Zambrotta, capitano guadagna a fondo, cross, palla dentro Buffon sulla testa di Vieri gioca palla bassa per Cristiano attenzione sul filo del fuorigioco Oba, la palla è buona Oba non è offside è solo, Oba il tiro, alto corner, no Caragunis carica al destra attenzione, vede la porta ci prova, il suo tiro è alto deviato in calcio d'angolo bravo Zorba attenzione Zorba attenzione Zorba si libera di due uomini sul filo del fuorigioco c'è Oba si libera anche di collina doppia dribbling palla buona per Oba fronte di destra difesa schierata però da Juventus Oba al limite, entra in aria palla dentro capitano, il suo tiro la parata di Buffon Caragunis cerca l'azione personale chiamano 1-2 con Cristiano carica al destro il suo tiro palla all'atto però va al disturbo di Vaio tiene palla subisce l'intervento scorretto di Caragunis c'è un calcio di punizione per la Juve parte la traiettoria palla dentro mischia centro aria di Vaio il gol del 3-2 3-2 finirà 3-2 collina dice che è finita intervante a Juve 3-2 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti